Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento con Unica Talk Sondrio. Torniamo a parlare di territorio e in particolare di recupero del territorio. Per questo in studio con noi, questa sera, c'è Massimiliano Franchetti, presidente dell'Asfo Vigneti San Rocco di Castione Andevenno. Buonasera. Buonasera. Allora, la vostra associazione è nata nel 2017. Da chi è nata e con quali obiettivi? Allora, io oltre ad essere diventato poi, al momento della sua Costituzione, presidente dell'Asfo, sono anche sindaco di Castione. E nel nostro programma elettorale, quando abbiamo iniziato la nostra esperienza amministrativa nel 2009, c'era il recupero di quell'area che poi è stato oggetto del primo intervento dell'Asfo, cioè l'area di San Rocco, della motta di San Rocco, che un tempo era vigneto e si è trasformata poi in bosco per l'abbandono, soprattutto causato dalla mancanza di viabilità adeguata che la servisse. Quindi questo era un po' uno dei sogni che avevamo nel cassetto come amministrazione. e quindi abbiamo sparso un po' la voce per cercare di capire come si poteva intervenire, dove si potevano recuperare le risorse. Diciamo che questa attività di promozione del nostro desiderio ha trovato risposta nel progetto Più Più Più. Il progetto Più 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 è stato un progetto di welfare in azione, finanziato da Fondazione Cariplo, al mandamento di Sondrio. All'interno di questo progetto c'era anche una parte dedicata al recupero del territorio, che non ha interessato solo Castione, ma anche altri territori del mandamento di Sondrio. Quindi in quest'ambito ci è stato chiesto se eravamo disponibili a fare la nostra parte per quanto riguardava il recupero della collina di San Rocco. Allora abbiamo, diciamo, all'interno della compagine del progetto Più Più Più, c'era anche la SEV, la quale SEV ci ha proposto come strumento per l'attuazione di questo intervento la creazione di un'associazione fondiaria. L'associazione fondiaria consiste sostanzialmente, per usare un linguaggio molto semplice e comprensibile da tutti, in una specie di cooperativa dei proprietari, i quali mettono a disposizione i loro terreni, pur rimanendone proprietari, pur essendo salvaguardati anche da eventuali usucapioni, eccetera, mettono a disposizione questi terreni, i quali dall'associazione fondiaria, come nel nostro caso, vengono gestiti per raggiungere la finalità specifica, che nel nostro caso era il rimpianto del vigneto. Quindi il motivo per cui è nata l'associazione fondiaria e da dove è partita è quello che ho spiegato. Ecco, la vostra associazione è stata, tra l'altro, la prima in Lombardia. E dopo cinque anni quali sono gli obiettivi che avete raggiunto? Sì, la nostra associazione fondiaria è stata la prima in Lombardia, perché l'esperienza dell'associazione fondiaria è un'esperienza che è nata in Piemonte, promossa soprattutto da un docente universitario, il professor Cavallaro, docente del Politecnico di Torino, il quale ha fatto molte associazioni fondiarie in Piemonte. In Lombardia non era stata sperimentata come sistema. E noi, tramite appunto, come dicevo prima, la SEV, siamo stati i primi a incamminarci su questa strada. I risultati sicuramente sono stati molto soddisfacenti, perché l'obiettivo principale per cui è stata creata, cioè il recupero del vigneto sotto la collina di San Rocco, è stato raggiunto 15-3 ettari di terreno abbandonato, vigneto abbandonato, sono tornati ad essere un vigneto che ormai si avvia quasi a diventare produttivo, penso l'anno prossimo, visto che le viti ormai sono cresciute bene, quindi stanno iniziando a poter essere produttive. Nel recupero, che è consistito anche in tanti lavori di quasi disboscamento, possiamo dire. Di disboscamento, sì. Avete anche avuto modo di fare una scoperta importante anche dal punto di vista culturale, non solo del territorio, no? No, sicuramente, nel senso che tutta la collina era coperta dal bosco. In mezzo a questo bosco abbiamo trovato tracce di una torre medievale, di quella che noi pensavamo essere una torre medievale di avvistamento, che faceva parte del sistema difensivo di Sondrio nel Medioevo, al tempo dei Decapitanei. Questa scoperta ci ha indotto a cercare ulteriori risorse su altri fronti per recuperare questo manufatto, in modo che adesso che la collina è tutta coperta dalle vigne, questo manufatto si staglia un po' rispetto al resto e quindi potesse essere valorizzato per poter essere poi visto anche dal fondo valle e goduto da eventuali visitatori. Durante i lavori poi di scavo archeologico nella zona della torre per poter metterla bene a nudo e poter quindi fare le opere di consolidamento necessario, sotto una coltre di 3-4 mezzi di ciotoli accumulati lì nei secoli dai vignaioli che spietravano le vigne, abbiamo trovato invece anche il vero e proprio Castello del Leone, di cui sapevamo che era più o meno collocato in quella zona, quindi abbiamo trovato 4-5 ambienti che adesso andremo a restaurare nei prossimi anni. Quindi in qualche modo avete trovato le vostre origini, perché il Castello del Leone pare che abbia dato il nome a Castione. Sì, Castione deriva da Castellione, da Castello del Leone, quindi è l'origine del nostro nome, sì. E per gli anni a venire quali sono i progetti che ha la vostra associazione? Ecco, l'associazione fondiaria come progetti per il futuro ha di proseguire nel recupero di altre superfici attività abbandonate, soprattutto quelle di pregio nella zona S del territorio, zona Sassella per intendersi. Per fare questo devo ringraziare anche Regione Lombardia che è sensibilizzata dalla nostra esperienza ed anche altre esperienze di ASFO che nel frattempo si sono formate e sono cresciute. Ci sta comunque assegnando dei contributi per poter fare anche degli studi, perché siccome dobbiamo procedere in maniera anche sensata e ordinata nel recupero dei vigneti, perché non si può andare, secondo il caso, la Regione Lombardia ci ha finanziato l'anno scorso uno studio che noi abbiamo quasi concluso per l'individuazione di queste aree di recupero e poi quest'anno con un ulteriore bando ci ha finanziato un programma di gestione che sarà la fase successiva allo studio. L'unica cosa più o meno costa 80 mila euro all'ettaro il recupero dei vigneti ormai diciamo rimboschiti e quindi il problema adesso sarà recuperare queste risorse. Nel senso, terminato il programma, fatto il piano di gestione, poi se si individuano le aree da cui partire bisogna recuperare queste risorse che non sono poca cosa perché 80 mila euro all'ettaro è una bella cifra insomma, che ovviamente il Comune non può mettere, l'associazione fondiare ovviamente non ha e quindi bisogna reperire presso enti terzi. Ecco, dicevamo che i tre ettari che costituiscono il patrimonio di questa associazione al momento nella zona di San Rocco appartengono a quanti proprietari? I proprietari sono circa una cinquantina, partiamo da proprietari che hanno delle particelle di 300-400 metri quadrati al più grosso proprietario che ha una particella di circa 7-8 mila metri quadrati, quasi un ettaro. Che è anche il motivo per cui questi piccoli, possiamo chiamarli appezzamenti, poi sono finiti per essere abbandonati. Sì, certo. Tra l'altro vorrei aggiungere il fatto che il reimpianto è avvenuto col sistema a giropoggio e non più a ritocchino, cioè il sistema a ritocchino è quello classico valtelinese secondo le linee della massima pendenza, mentre il giropoggio è quello che segue dal nome, si capisce, che gira il poggio. Questo sistema agevola la meccanizzazione che prima non c'era su quella zona e quindi un altro dei motivi per cui è stata abbandonata, mentre adesso diciamo che tanti interventi tipo l'adacquatura e altri interventi che vengono eseguiti possono essere meccanizzati. Per questo motivo l'ASFO oltre al recupero punta a rendere sostenibile il mantenimento di quel posto, quindi in qualche modo anche economicamente sostenibile, giusto? Sì bello, su questo lotto che abbiamo recuperato è già sostenibile economicamente, nel senso che noi, terminata l'operazione di recupero, abbiamo fatto una gara per affittare questo terreno con le viti impiantate ed è stata aggiudicata da una nota ditta locale di produzione di vini, la quale ovviamente ha visto probabilmente in questa vignetta delle possibilità di reddito concrete, non teoriche. Tra l'altro nel contratto d'affitto c'è anche l'obbligo di creare un crew locale, quindi usciranno, quando comincerà la produzione, penso l'anno prossimo come dicevo prima, uscirà un prodotto che sarà marchiato vino di San Rocco, insomma. Bene, grazie di averci presentato questa iniziativa, che di successo si può dire, oltre che pionieristica in Lombardia. Grazie a Massimiliano Franchetti, con voi l'appuntamento alla prossima settimana e a tutti una buona serata.